ciao a tutti oggi come vi ricordate nei video precedenti abbiamo fatto il gufetto e la lilla abbiamo aperto che finalmente ci avevo fatta a infilare quello bellissimo oggi se vi ricordate bene andiamo ad aprire la nostra lol surprise ok un vestito più una coppa tra l'altro glitter perché questa è la mi sa che la nuova serie che dice glitter è una serie glitter e serie scintillante e anche come sempre la fiamo male ok allora vediamo un po' si può sputare, pisciare, piangere quelle lì ovviamente sono sempre le cose che rimangono in ogni allore ragazzi vedo già che è una rara, rara, rara perché quelle dorate sono così oppure in tutte le eldre della nuova serie sono così perché quelle dorate siano le speciali non ci andiamo a confondere ok così ok andiamo ad aprire il primo di storia il vestito è la più bella del mondo sembra così sembra così sembra così che sia da scolare oppure forse so qual è eh magari è qual è non l'hanno fatta ancora vedere così ok so qual è ora so veramente qual è quindi se non è lei veramente voglio che non le so addeccare la sticca è lei allora quella la nerd la nerd insomma è la stessa gana è la stessa maglia i cerchi cioè i luoghi così è così è tra l'altro anche glitterata vedete io intendevo ah no ci sono solo queste ah no qua dietro vedete io intendevo questa è è lei è possibile che non sia lei eh ma si sapeva già un pochino che era lei gli occhiali vabbè grazie è lei è lei è lei è lei secondo me sapete perché ha vinto la coppa perché è una bravissima in matematica andiamo ad aprire la lo so è l'ol surprise ed è lei uh nuda ok vediamo a vestirla piccato che non mettono mai le mutande sennò ci sarebbe da divertirsi si ci diverte anche così però con un è ecco a voi tutte le lol la lil e la lol best questa è la lol che ora l'ho vestita tutto non si è in posizione comunque non è una nuova serie però se è alla palla ehm d'oro è rara ok questo era tutto quello che ovviamente dovevamo aprire questa palla arriviamo alla prossima ci vediamo con il video di aprire i le figurine dei calciatori panini ciao ciao ciao